Ciao amici sono Lox, buonasera, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Secondo appuntamento in questa 37esima giornata, abbiamo visto prima la Sardinitana sconfiggere l'Empoli 2-0 e rimanere proprietaria del proprio destino. Seconda partita del giorno, Lecce contro Regina. Due squadre in lotta per obiettivi importanti, Lecce per continuare a sognare la promozione diretta, Regina per continuare a sognare la qualificazione e i play-off. La partita però è terminata a due pari, ovvero un punteggio che non serve a nessuna delle due squadre. Il Lecce per effetto dei risultati di oggi, le vittorie di Sardinitana e Monza, è fuori dalla lotta per la promozione diretta, ma avrà la sua chance nei play-off. La Regina per effetto di alcuni risultati che già so e alcuni che scopriremo comunque, credo che in questo momento sia veramente in difficoltà per poter avere ancora delle ambizioni in play-off. Devo ancora fare i conti se ci possano essere ancora possibilità matematiche, ma c'è un gruppo di squadre a 53 punti, la Regina resta a 50. La partita è stata nel primo tempo assolutamente bella, spettacolare e divertente. Io mi sono segnato 11 occasioni da reti, compresi i gol, tra le due formazioni. Il primo tempo è finito già sul due pari. Ok, come sempre quando ci sono partite così spettacolari non bisogna nascondere anche gli errori della difesa, che sono stati tanti i dividenti, soprattutto da parte della retroguarda del Lecce, che una volta di più ha mostrato di avere nella difesa proprio tallone d'Achille. Da un punto di vista offensivo, il Lecce ha giocato una buonissima partita, ha costruito tante occasioni da gol, il centrocampo è stato piuttosto dinamico, Mancosu è tornato, ha giocato una partita eccezionale, oggi veramente di grande leadership, soprattutto sempre nel primo tempo, ma dietro è mancato troppo, chiusure sbagliate, posizioni sbagliate, troppe occasioni concesse. La regina dal canto suo ha giocato una partita eccellente, sfortunatissima, perché ha perso due giocatori per infortunio subito nel primo tempo, ed era un infortunio che pare essere abbastanza grave, poi infortunio anche a Rivas. Ha giocato una gran partita, si è sviluppato delle grandi trame offensive, avrebbe potuto segnare e chiudere l'incontro probabilmente nel primo tempo, perché le occasioni da gol più nette mancate sono della regina e non del Lecce. Il secondo tempo poi invece la partita è calata, c'era anche un gran caldo, oggi a Lecce quindi si è fatto addirittura il cooling break, per cui probabilmente nel secondo tempo era impossibile mantenere gli stessi ritmi del primo tempo. Credo che è un pareggio che dà tanti rimpianti comunque per le due formazioni, certo non si perde un campionato con una partita sola, però per tenere in vita i propri obiettivi oggi serviva a vincere, questo pareggio veramente conta pochino per entrambe le formazioni. Il vantaggio lo trova la regina, a settimo minuto una bellissima volée da destra, chiudendo da destra di Edera su un cross dalla sinistra, di Bellomo, Bellomo una partita eccezionale tranne l'errore che vedremo dopo, da notare subito una ed altra delle corini, credo che stia un po' troppo sperimentando in questo finale di stagione, dopo aver inserito Dermacu al posto di Meccariello, che era in buona forma nella partita di martedì a Monza, oggi ripresentato dopo il, non giocava dal 13 di marzo, Zuta. Zuta ha una prestazione abbastanza orribile, in ritardo su questa chiusura, faticato in attacco, è stato sostituito all'intervallo da Gallo, non credo che la sua presenza oggi sia stata assolutamente all'altezza della situazione, e Meccariello stesso oggi ha giocato una partita molto impacciata, le cose migliori, Meccariello le ha fatte in attacco, sui calci d'angolo, ancora sul 2-1, ha chiuso alto di poco sulla traversa, nel secondo tempo c'è stata un'occasione ancora nel quale sia un po' disturbato con coda, ma ha fatto in attacco e non in difesa le cose migliori. Lo stesso Lucioni, che è il leader di questa difesa, oggi è stato un po' impreciso, soprattutto in questo primo tempo molto confuso. Detto del vantaggio della regina, un minuto dopo il Lecce potrebbe pareggiare, ma una bomba di coda dà solo l'illusione ottica del gol, cinque minuti dopo c'è l'infortunio tremendo a Eder, la regina fa il cambio, un po' forse anche di confusione tattica in campo, Mancosu bravissimo, un po' una bomba eccezionale in mezzo all'aria, Stepinski bravo di testa in mezzo a due difensori e realizza il gol dell'1-1. Due minuti dopo il Lecce passa in vantaggio, coda oggi eccezionale per continuità, per conclusioni, per voglia, per come ha svariato in attacco, non ha trovato soltanto gol. Coda recupera la palla, taglia tutto il campo, una bomba che Nicolas rispinge ma non trattiene, palla in mezzo all'aria, il più veloce Stepinski a buttarsi sul pallone e dare il vantaggio al Lecce. Sul conteggio di 2-1 la partita continua a essere aperta, con un ritmo di gioco molto veloce, centrocampo saltato anche abbastanza agevolmente da entrambe le formazioni, il Meccariello di testa ha la possibilità di fare il 3-1, sul rilancio del portiere, una delle classiche situazioni del Lecce, il Lecce nonostante in una situazione dove fosse ben schierato in campo, si fa assolutamente uccellare da Montalto che di testa spizza la palla, Oconquo va al tiro, Gabriel Parra, una rete molto simile a quella del Lecce, sulla ribattuta Meccariello che aveva perso il duello aereo con Montalto, non lo cura durante l'azione mentre ci si sposta verso la porta e Montalto è quindi il più veloce ad avventarsi sulla palla, supera Gabriel, gol del 2 a pari. Subito un minuto dopo coda un'ennesima bomba da fuori, rispinta in questo caso da Nicolas, poi Montalto ci riprova ancora la partita di Nicolas e poi la regina in chiusura di tempo, ancora due bellissime occasioni, una dove Oconquo va al tiro e la palla va sull'esterno della rete, ma c'era in mezzo all'area Montalto libero e poi un'occasione straordinaria nella quale Bellomo è davanti alla porta e la copertina di questo video perché è l'immagine del rimpianto cumulativo che deve lasciare questa partita tra due belle squadre che però oggi non sono riuscite ad avere la concretezza necessaria. Bellomo davanti alla porta, una palla perfetta, si mette male con il corpo, colpisce la palla a Malta. In chiusura del primo tempo ancora mancosa un'altra possibilità. 11 palle gol, una partita veramente divertente, veramente scoppiettante, entra Gallo al posto di Zuta, il secondo tempo invece come dicevamo molto più appaccato, molto più tranquillo. Le due squadre hanno ancora diverse occasioni da rete e ma in questo caso ci sono tante buone chiusure difensive, c'è una bella chiusura di Lujacono su coda sul lancio della sinistra, c'è una bella chiusura di Nicolas su Maggio, Nicolas è bravo anche a chiudere su coda su quell'azione che vi dicevo prima su Meccariello. La regina dall'altra parte costruisce ancora, è molto pericolosa quando si butta in contropiede, Lucioni un paio di volte chiude molto bene, c'è un'altra opportunità nella quale c'è un tiro, è una bella giocata di Dennis che però poi perde il tempo, un'altra conclusione ribattuta da Hulman, poi Menezza all'ottantatresimo, ha un'occasione straordinaria di andare a trovare il gol, ma la palla esce di poco. Nel finale ancora diverse occasioni da rete per il Lecce, un paio di occasioni con coda, una un colpo di testa e una invece un altro tiro che viene respinto da Nicolas. La partita termina quindi sul due pari, una partita piena veramente di divertenti, di occasioni, possesso di palla 57 a 43 per il Lecce, i tiri in porta sono stati 19 a 15, nello specchio 10 a 6, abbiamo avuto la bellezza di 16 tiri nello specchio della porta. Il punteggio è quello che è, il Lecce quindi, come dicevamo, si avvicinerà ai play-off, il Lecce, allora, diciamo, in queste partite, oggi ho rivisto la determinazione che non avevo visto nella partita contro il Monza, l'avversario era diverso, la regina ha lasciato anche un po' giocare, è stata bravissima a ripartire, il Lecce deve soltanto, dovrà cercare di trovare una maggiore solidità difensiva per affrontare i play-off, dal punto di vista offensivo il potenziale è veramente, notevole. Un po' mali i cambi oggi, perché quando è entrato Yelcin, lo stesso Rodriguez non è riuscito a incidere, Nikolov non mi è piaciuto più di tanto, insomma, i cambi del Lecce oggi hanno giocato un pochino meno bene, sono stati un po' meno incisivi del solito. Migliori in campo in questa partita per il Lecce, come sempre mi sono piaciuti, io il bandano sono un po' di parte, perché sapete che adoro questo giocatore, mi è piaciuto Bjorkengren oggi, secondo me, ha fatto una buona partita, e poi, come detto, il reparto offensivo, mancoso un primo tempo soprattutto straordinario, e poi Koda veramente leader, e Stepinski comunque con la doppietta. Poi magari non sempre non così presente nel gioco come Koda, Stepinski, ma i due gol vanno assolutamente da rimarcare. Nella regina mi è piaciuto molto, mi è piaciuto Nikolas comunque, alcuni buoni interventi, anche un'uscita fuori dall'area incredibile verso il finale, che ha lasciato veramente un po' di patema d'animo. Il migliore in campo a mio avviso nettamente Krimi, il migliore di tutta la partita, una prestazione straordinaria, il centrocampista veramente leader, veramente un sacco di palloni recuperati, anche tecnica in avanti, una grinta, una lotta, veramente una prestazione notevole per Krimi. Poi mi è piaciuto Bellomo, al di là del gol sbagliato, e poi Montalto, che ha giocato una partita straordinaria, anche lui poi ha dovuto uscire per infortuna, ma ha giocato veramente, veramente molto bene. Arbitro dell'incontro, Guida, 24 falli, 3 gialli, il voto per lui è 7,5. Io ne parleremo una volta magari un po' più diffusamente in un altro video, sono molto appassionato, essendo stato arbitro nella mia vita, fino a pochi mesi fa, del mondo arbitrale, non sono tifosissimo del fatto di questa cosa degli arbitri di Serie A che vengano ad arbitrare le partite di Serie B, mi piace molto l'unificazione della Cannes, al contrario, che gli arbitri di B possono arbitrare in Serie A, però quando poi vedi Guida che scende e arbitra con questa autorevolezza, con questa tranquillità, come ogni sua decisione viene assolutamente rispettata e il metro che riesce ad avere nelle partite, ti accorgi comunque di quanta strada ancora devono fare gli arbitri di Serie B per poter arrivare al livello di arbitri così buoni. Quindi 7,5 per Guida, telecronaca dell'incontro, Ricky Buscaglia e Stefan Schuock, devo dire la verità, ho cercato disperatamente Buscaglia che ha passato quasi più tempo a dire i punteggi delle altre partite che non a commentare l'incontro, quindi non sono in grado onestamente di valutare la telecronaca in questo caso. Vi ringrazio ragazzi, grazie per i nuovi iscritti, benvenuti, like se vi piace il video, iscrivetevi al canale che per me è sempre molto molto importante, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti, noi ci vediamo più tardi e vedremo la sfida zona bassa contro zona playoff tra Reggiana e Spal, di cui qualche piccola idea l'ho sentita perché non sono riuscito a passare in tempo, però il punteggio finale non lo so ancora. Vi ringrazio ragazzi, un bacio, a più tardi, ciao!